Dottoressa, un importante film verrà proiettato domenica su temi importanti come l'inclusione e la disabilità. Domenica si proietteremo per la prima volta a Fano, un film documentario che è stato prodotto dalla stessa commissione pari e possibilità, però precedente, non questa attuale, e parla comunque della disabilità, è stato da me fortemente voluto e fortemente, diciamo, accettato e compreso dalla commissione precedente. E quindi mi sarà presentato all'auditorium Masetti l'11 maggio domenica alle ore 17 e ci sarà un incontro di commissione, ci sarò io, perché il film parla di me e la mia storia, la storia della mia vita, ma parlando di me ho voluto appunto rappresentare e far conoscere il mondo della disabilità attraverso me, ma che poi è la storia di tanti altri ragazzi, di tante altre persone che vivono quotidianamente la diversità, non solo la disabilità. E quindi fanno, diciamo, fatica, ma nonostante questo, o mattono, per potersi conquistare piano piano dei piccoli spazi di vita normale.